Grazie di essere qua. Diciamo che nasce nel lontano 2008 questo progetto, da quanto si può apprendere, da documentazione che noi abbiamo reperito dal sito del Comune e non solo. Nel 2016 tutta quest'area viene lottizzata in 30 diversi lotti per 30 capannoni di attività industriali varie, ma sino a quest'anno tutto è rimasto fermo. Come vedete sono campi. Ad agosto di quest'anno è stato depositato in Comune una variante del piano urbanistico attuativo già in essere con i 30 lotti che dicevo per l'unificazione del tutto in due megalotti all'interno dei quali invece che sorgere 30 fabbricati sorgerebbero tre di dimissioni enormi. 32 ettari ovviamente di terreno non sono pochi, i fabbricati ovviamente non occuperebbero 32 ettari ma una buona parte. Benché il documento presentato, documento di iniziativa privata, attenzione perché è un privato che ha proposto questa variante e che fa autore di questa iniziativa, ma è una società di Parma, nuove iniziative generali SRL. Non dice che diventerà un palo logistico, l'utilizzo di questo viene definita a uso industriale produttivo barra logistico. Perché non si può definire palo logistico? Perché vi sono altri tecnicismi e altri strumenti a livello anche provinciale regionale, se non erro poi i più ferrati di me in urbanistica magari mi correggeranno, che deve passare per avere questa denominazione. Sta di fatto che noi come comitato spontaneo siamo, come dire, siamo nati perché tal'uno di noi ha appreso in maniera del tutto casuale e devo dire fortunata tramite il sito del comune della pubblicazione di questa variante al piano urbanistico, tal che girando casa per casa ci ha un po' riuniti e noi stessi come obiettivo ci prefiggiamo il far sì che questa iniziativa non venga approvata. Ossia noi non vogliamo un polo logistico, non vogliamo un'area di vita logistica, perché è chiaro che per come è stata disegnata, qua solamente della logistica può venirci. Ed è chiaro che se questo diventerà un primo lotto logistico nulla impedirebbe per la naturale conformazione della zona di estendersi, quindi diventare un vero e proprio polo logistico quando magari farà tutti i passaggi del caso. Quindi invece che 32 ettari magari ne avremo 72 o chissà ancora di più. Questo che è uno dei pochi angoli, tra virgolette incontaminati, rimasti in provincia e a Medesano, perché comunque sia a Medesano, ha tante piccolissime aree di insediamento industriale piccole, tra cui anche se non erro con capannoni ad oggi ancora vuoti e lotti ancora invenduti, poi ribadisco questi dati, io non ne sono titolare, non sono un tecnico, però queste sono le fonti che mi dicono, si vedrebbe ancora deturpare il nostro paesaggio e soprattutto privare i cittadini residenti della loro tranquillità, perché abbiamo stimato all'incirca, ma questa è una stima ovviamente a ribasso, perché è calcolata su 4 camion ora, all'ora che transiterebbero non meno di 1500 camion al mese, 1500 camion che ad oggi come ad oggi potrebbero solo transitare sulla viabilità ordinaria, perché questo progetto faraonico in realtà provvede solamente un adeguamento a livello della viabilità, la costruzione di una rotonda, in quell'incrociola che vi sto indicando, null'altro, quindi si utilizzerebbe l'attuale viabilità, che per intenderci per andare a Parma Ovest ci sarà la futura cosiddetta tangenziale di Noceto, che dovrebbe essere completata breve da quanto si può osservare, mentre per il traffico che dovrà andare verso Fornovo, verso il mare, perché da quanto ci è stato detto anche con gli incontri con gli amministratori, dovrebbe essere un polo di collegamento col porto di La Spezia, quindi camion che vanno e che vengono, e in questo modo passerebbero per Medesano, Ferregala, Ramiola, ovvero dalla parte opposta del fiume, da Riccò, da Fornovo, quindi non sono solamente gli abitanti delle ghieie di Medesano e di Medesano coinvolti, c'è tutta una parte della valle coinvolta, ma soprattutto questo polo non trova, per noi, noi riteniamo che non trovi una sua ragione perché a livello occupazionale sicuramente non giustifica il sacrificio di 32 ettari di fertile campagna. Allora, noi abbiamo contatti con varie associazioni, adesso non abbiamo ancora comunicati ufficiali e quant'altro perché purtroppo le tempistiche sono talmente ristrette che siamo riusciti anche noi a coordinarci con le associazioni, quindi stiamo noi stessi creando. È chiaro che le posizioni nostre, io posso solo parlare per le persone che rappresento, sono ovviamente contrari alla logistica, le associazioni ambientalistiche mi verrebbe da dire che sono contrari, non avendo ancora una posizione ufficiale sulla questione perché sono in corso degli incontri fra di noi anche per definire eventuali strategie, intendiamoci. La tua amministrazione lo ritiene un intervento evidentemente doveroso da effettuarsi perché ovviamente hanno le loro buone ragioni per insediare un pollo logistico, punto di domanda come dovrebbe venire, piuttosto che un progetto di 30 aziende che si potrebbero insediare sul territorio, questo non lo posso sapere perché io non sono nelle amministrazioni e per quanto riguarda l'opposizione immagino non ho idea di quale sia l'opinione dell'amministrazione perché ufficialmente non ha preso posizione, però magari l'opposizione stessa potrebbe essere contraria poiché essa stessa era fautrice nel lontano 2008 dell'insediamento di un'area industriale in questa zona con dei capannoni per intenderci, questo non lo so bisognerebbe chiederlo a loro. Allora anzitutto noi le azioni che abbiamo messo in atto sono una sensibilizzazione in tutte le persone possibili e coinvolgere il maggior numero perché come sto riscontrando quasi nessun cittadino ne è informato, questa grande variante, questo grande progetto che comunque sia avrà dei risvolti molto pesanti per gli abitanti in termini di inquinamento, in termini di rumore, viabilità, viabilità ma anche proprio di tranquillità della zona perché come dire si può fare una prospettiva abbastanza sconcerta, come dire pessimistica, le zone industriali comunque sia non hanno buona fama per intenderci e questo è sotto gli occhi di tutti. Il comune si è limitato solamente alla pubblicità legale, alla pubblicazione sul proprio albo, dopodiché i cittadini non ne sono informati, quindi anzitutto noi come dicevo vogliamo informare più cittadini possibili perché se una tal opera deve essere fatta è giusto che i cittadini di medesano a maggior parte almeno ne sia conscia e possa esprimere il suo dissenso, questo direttamente alle istituzioni o con gli strumenti possibili e previsti dalla normativa. Uno di questi infatti ad oggi è la presentazione di opposizioni al comune, opposizioni a questo progetto per far come dire emergere il proprio dissenso, per far capire quali sono gli aspetti critici o anche perché non dovrebbe essere semplicemente fatto, perché un quartiere logistico non dovrebbe essere messo in questa zona, praticamente è il punto focale. Noi come membri che ci siamo uniti della collettività della strada e di strada ghiai di medesano ovviamente proporremo queste opposizioni e speriamo che ci sia il maggior numero di cittadini, ma non cittadini, anche tutti coloro che sono interessati e hanno a cuore l'ambiente, la salubrità dello stesso o semplicemente sposano questo tipo di causa per un Davide contro un Golia, per un progetto del genere, vogliono firmare. Quindi noi a breve sulle nostre pagine social faremo emergere le date in cui potrete venire da noi per firmare, così come eventuali incontri con tutta la comunità.